Sono felice di questo riconoscimento e ringrazio a tutti Yeongro Park, il pianista al quale è andato il premio Enrico Prati, intitolato alla memoria della Presidente di Telelibertà e Vice Presidente di Editoriale Libertà, scomparsa nel 2015, un riconoscimento sostenuto da Editoriale Libertà nell'ambito del Valtidone Festival. Il primo premio del Silvio Bengalli Piano Prize, destinato al miglior pianista dei concorsi Valtidone, non è stato assegnato e questo perché i giurati e organizzatori hanno sempre puntato sulla qualità, sull'eccellenza assoluta, ma ciò non toglie che l'edizione di quest'anno sia stata ugualmente di altissimo livello. Secondo si è classificato Yeongro Park, terzo Ming Sung Lee e un ex-equo al quarto posto tra Maria Naroditska e Hee Jung Han. Molti i momenti clou del Valtidone Festival, giunto alla sua ventitresima edizione, ma il Galà dei Vincitori, presentato da Livio Bollani, direttore artistico del Festival, è sempre uno dei momenti più alti della rassegna e si è tenuto ieri sera al Teatro Verdi di Castel San Giovanni.